Andiamo a chiudere con l'ospite, ci ha raggiunto in studio Alberto Comand che è il sindaco di Mortegliano perché l'abbiamo chiamata Comand? Semplicemente perché ci sarà un importante appuntamento sabato in memoria di un grande illustre cittadino di Mortegliano che ha calcato per anni i campi di calcio della Serie A è stato protagonista dello storico scudetto del 1964, seppur non giocò quella partita ma era l'ala sinistra per eccellenza un centravanti atipico come si dice in questi casi, cioè quel Pascutti mortegliannese o chiasieliese più precisamente ecco, doc, però insomma si vuole ricordare la figura di Pascutti allora sabato se non ricordo male ci sarà questa presentazione di un importante libro Sì, certo, sabato mattina alle 11.30 presso la sala consigliare del comune a Mortegliano ci sarà la presentazione della monografia curata da Fabio Campisi per questo noi dobbiamo ringraziare la famiglia Pascutti, in particolare la signora Alessandra, l'autore e la casa editrice Minerva che hanno voluto fare questo vero e proprio regalo alla comunità di chiasieliese di tutta Mortegliano, ovvero la presentazione fra l'altro è atteso anche il grande Bruno Pizzu mi ha anticipato, non a caso per dover documentare questa grande figura mancava un po' il nostro oracolo, mi si è consentito questo termine insomma il buon Bruno, sappiamo, non ha bisogno di presentazioni per raccontarne le gesta attraverso la presentazione, la prefrazione tra l'altro che Bruno Pizzu l'ha fatto su questo libro perché non tutti sanno o conoscono bene chi è stato Ezio Pascutti si tratta di un giocatore che appunto ha militato tra gli anni 50 e 60 ed è stato sicuramente uno dei più grandi in Italia, fra l'altro tuttora trascorsi 50 anni da quando ha smesso di calcare i campi di gioco è ancora a Bologna considerato il più grande giocatore del club che fra l'altro in quegli anni era uno dei club più titolati d'Italia quindi è sicuramente una figura di rilievo per il calcio nazionale fra l'altro ha fatto due campionati del mondo nel 62 e nel 66 ed ha segnato veramente tante reti ricordiamo ha segnato anche un momento particolare nella diplomazia italiana perché in quel famoso 63 a Mosca allo stadio Lenin si fece spellere d'altronde quella volta il calcio era così, a forza di prenderle dal famoso terzino destro sovietico Pascutti si girò secondo le cronache ma non c'è un documento filmato comunque infatti purtroppo mancava la vara sta di fatto che creò un po' di gelo in un certo senso con allora presente lo stadio Lenin ricordiamo tutto il gota del partito comunista e insomma potete solo immaginare cosa capitò al povero Pascutti eh certamente si tratta probabilmente di un equivoco derivante dall'inquadratura perché è stato smentito più volte l'episodio e posso confermare che non esistono filmati nemmeno in cinepresa filmati dunque in pellicola di questo fallo di Pascutti da espulsione fatto sta che purtroppo questo ha inciso anche sulla sua carriera perché la federazione nazionale a me prese dei provvedimenti detto questo sicuramente rimane uno dei giocatori più amati in Italia e sicuramente è stato importante per la comunità di Chiesielis e di Mortegliano che è ben felice di ricordare le sue gesta e per questo come dico ringraziamo chi ha curato questa pubblicazione che fa parte della collana del Bologna Football Club Senta signor Sindaco poi cosa importante da non dimenticare è che la terra friulana è stata fucina di grandi calciatori non solo difensori ma attaccati ho detto prima Pascutti alla sinistra un'ala sinistra un po' atipica perché era un centravanti che sapeva giocare da seconda punta e lì fu bravo il buon Fulvio Bernardini ad aggiustarne in un certo senso le sue caratteristiche perché Nielsen era il centravanti e Pascutti era poi quello che entrava e faceva le reti servite chiaramente da Bulgarelli da una parte e da Haller dall'altra si dirà era un altro calcio tutto quello che si vuole però l'importante è mantenere viva questo ricordo perché si vuole continuare a dire che in Friuli Venezia Giulia ci sono stati moltissimi calciatori che hanno dato un contributo importante per sviluppare tutto il mondo della pedata non solo sotto l'aspetto tecnico-tattico ma anche sotto l'aspetto umano senza altro fra l'altro anche la famiglia Pascutti annoverava lo stesso fratello di Ezio Enea è stato un grande giocatore purtroppo in quegli anni molti si sono visti interrotti come Enea la carriera dagli infortuni e una volta purtroppo sappiamo che non c'erano gli strumenti esattamente così comunque è vero lo ricorda anche nella prefazione Bruno Pizzul proprio di questo libro il Friuli ha dato veramente i Natali a tanti calciatori ed è stato importante per tutto il calcio nazionale fra l'altro proprio uno dei gol più ricordati di Ezio Pascutti quello in tuffo a volo d'angelo come dissero poi laddove anticipò Tarcisio Burnice proprio per questo ricordiamo che fu quello anche uno dei più grandi difensori italiani ed era friulano Burnice stava per calciare lui arrivò in tuffo e fece un gol veramente incredibile immortalato si trova queste immagini però si trovano si addirittura la foto c'è anche sul libro ed è veramente la più bella probabilmente di tutta la pubblicazione però un momento importante per Chieselis per la comunità perché qua ritroviamo anche i primi anni di vita del calciatore quindi anche qua si ritrovano protagonisti proprio anche la gente comune del paese che si riconoscerà in questo libro io ringrazio il sindaco Alberto Coman noi vediamo con i tempi come siamo cercheremo ricordiamo l'appuntamento sabato sabato mattina alle ore 11 e 30 presso la sala consigliare del comune di Mortegliano ecco noi se il tempo ci sarà clemente cercheremo insomma di essere presenti in qualche maniera intanto abbiamo fatto un po' il promo per coinvolgere sappiamo insomma gli appassionati e non della zona del medio Friuli accorreranno siamo sicuri a questo importante evento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.